Ben ritrovati a tutti e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare un interessante comando da terminale che può essere sempre utile conoscere caso mai avessimo bisogno di un timer e non abbiamo sul nostro pc un'installazione di un programma specifico per queste cose c'è sempre il nostro fido terminale che ci permette di fare praticamente di tutto allora come vedete qui il titolo della mia mini scaletta appunto parliamo oggi di un semplice timer nel terminale il timer si basa sul comando sleep sleep vuol dire praticamente dormire in inglese insomma e quindi è da interpretare come una pausa di un certo intervallo di tempo quindi sleep permette di sospendere quello che sta succedendo nel terminale per una pausa di tempo che un intervallo di tempo che noi possiamo impostare come vedete qua ho messo le varie unità di tempo possibili che il comando sleep accetta ed interpreta quindi voi potete dare un intervallo di tempo in secondi con l'opzione s in minuti con la m in ore con h e in giorni addirittura potete crearvi un timer che lascia in sospeso o meglio che continua ad elaborare il comando sleep per dei giorni addirittura uno o più giorni a seconda delle vostre necessità l'esempio che vi mostro è un comando o meglio una linea di comandi composti da più di un comando per dimostrazione insomma per mostrarvi come funziona questo timer con il comando sleep e ne ho messo due esempi qui nella scaletta giusto per mostrarvi che si possono usare unità di tempo diverse vedete il primo esempio il primo comando è sleep 20m quindi secondo la nostra leggenda qua m minuti quindi il primo comando se lo eseguite se lo provate vi eseguirà questo comando sleep terrà in sospeso il terminale che avete aperto nel quale avete avviato il comando per 20 minuti poi punto e virgole per separare il prossimo comando vabbè e qui ho messo giusto a scopo diciamo più tra virgolette spettacolare dimostrativo un comando che fa parlare il nostro pc nel terminale quindi spd6 è un comando che impostando con l'opzione meno l it fa parlare in italiano se no se lasciamo via queste opzioni per difetto ovviamente parla in inglese potete scegliere anche diverse lingue quindi spd6 meno l it e in questo caso gli dico pronuncia 20 minuti quindi sono passati 20 minuti ecco questo fra le virgolette è il testo da pronunciare da parte del comando e poi vabbè c'è un finale di questo comando che permette di come dire deviare sulla coda nulla quindi di perdere l'output di questo comando ovvero se spd6 per motivi suoi di funzionamento scrive a terminale dei messaggi durante il suo lavoro diciamo così grazie a questa ultima parte del comando non vediamo questi messaggi tecnici del comando ecco questo è solo per mantenere pulito il terminale niente di più comunque diciamo che questo video non è per presentarvi queste particolarità i comandi di che permettono di far parlare il vostro pc attraverso il terminale ne ho già presentati in un video precedente non chiedetemi il quale perché non ho verificato per dirvelo ora comunque in uno dei video che si intitolano pillole di ubuntu vi avevo già presentato questo tipo di comandi perché e quindi non mi soffermo più di tanto perché in realtà il comando che ci interessa è sleep il lavoro che ci permette di fare sleep il secondo esempio ho impostato una lunghezza di 4 secondi che è decisamente più adatta ad un video tutorial come quello che sto registrando in questo momento quindi eseguiremo questo esempio giusto per mostrarvi come funziona il comando sleep 4 secondi dunque e poi dopo 4 secondi pronuncerà questa piccola frase perfetto 4 secondi allora andiamo nell'altra scheda del terminale faccio incolla del mio comando e pronto faccio enter sentiremo un silenzio di 4 secondi e poi la voce 1 2 3 4 perfetto 4 secondi ecco avete sentito e questo è il principio del timer quindi a terminale un comando semplicissimo ovviamente non siete obbligati e questo è ovvio comunque lo dico a conclusione di questo breve video non siete obbligati a mettere questo comando che parla ma potete mettere qualsiasi cosa quindi dopo un certo intervallo di tempo potete anche far partire un che ne so uno script bash uno script terminale un programma non lo so anche il comando che fa spegnere il pc qualsiasi cosa potete mettere dopo la pausa creata forzata dal comando sleep nel terminale ecco quindi ho deciso di presentarvi in questo breve video questo comando perché è semplicissimo da usare ma può diventare utilissimo quindi ci permette di creare delle pause preso a se stante può fungere da timer inserito per esempio in uno script fish o bash della vostra shell che preferita nel terminale vi permette di inserire delle pause nell'esecuzione del vostro script voilà con questo ho concluso comando semplicissimo provatelo vi lascio come sempre questa scaletta nel commento sotto il video sul canale ciao ciao e vi aspetto alla prossima ciao 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 ciao